Questa è la segretaria telefonica di Madda Venn. Non sono in casa. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Madda, amore, ti prego, rispondimi. È un'ora che cerco di parlarti. Guarda che se mi lasci io mi ammazzo! Presto! Presto, dobbiamo correre da mio fratello. Dice che si ammazza. È stato mollato da Margherita. Figura che se uno si ammazza perché è stato lasciato. Sono cazzate che si dicono. No, quello si suicida veramente, dai! Ma adesso che sto al telefono. Rettore Magnifico, ci sentiamo più tardi. Paolo! Tante care cose a lei e a famiglia. Paolo! Paolo, presto! Ma stai calma, che vuoi che... Come faccio a stare calma? Dacci questi gabbiani, ma stai al mare, no? Che c'è venite a fare, Roma? Ma ti pare il momento. Sono appena presa dal carrozzere. Ma non c'è le gabbiani. Preferisco suonare, non vorrei che facessi un gesto in consulto. Felice, apri? No! Asci, 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 lo faccio, lo faccio! Voglio morire! Margherita, non c'è stai giù! Voglio morire! Ma ne troverai un'altra più bella! Non la troverai più bella! Ma perché non ci troverai più bella? Non mi fai nervosi se dici che troverai più bella! È impossibile! Ma attacco il gas, ecco! Ma tu si voglio morire! Digli qualche cosa! Felice, ma che sei matto col gas? Che famo un botto! Magari, casomai, che ne so, uno si è buttato dalla finestra! Ma che sei scemo! E tanto non lo fa, dammi la chiave! Felice! No! Ti voglio morire! Ti voglio morire! Oddio, sei ammazzato? Ma che hai ammazzato? Siamo al primo piano! No! No! Dio! Dio, Dio! È morto! No! Non è morto! Ma spornare il cabrio, Ed! Sta da essere stupidozza! Oh! Dio! Sì!